Ciao a tutti, sono Enrico di Social Media Flags e oggi sono qui per provare a fare un nuovo record per il gruppo e fare un video da 5 minuti con 3 tools per i nostri social media hacks. Sono molto contento di come sta andando il gruppo, di come è il feedback da tutti quanti, di come è l'engagement, di come persone nuove, anche persone membri che c'erano già, stanno cominciando ad interagire, aiutare l'un l'altro, una cosa molto molto carina ed è quello che volevamo effettivamente fare e di conseguenza andiamo per punti. Allora, punto numero 1. Vi faccio vedere come utilizzo io il telefono da computer. Ho un Mac e utilizzo un telefono Android. Non ho nessuna maniera per farvi vedere come si fa per iOS, quindi se avete un iPhone non ho purtroppo nessuna maniera di farvi vedere come farlo per iPhone. Mi dispiace, sono sicuro che con un po' di buona volontà su Google troverete sicuramente la guida. Se c'è una guida che trovate per favore per iOS, postatela qui sotto il video così possiamo utilizzarlo. Io utilizzo una cosa molto semplice, chiaramente non è Screencastometic come avete appena visto, che è il software che uso per registrare schermo e me stesso, schermo webcam. Uso Visor. Visor è appunto quel tool che io utilizzo per, semplicemente per utilizzare il mio telefono sul computer. Fatemelo sbloccare, l'unica cosa è che bisogna sbloccarlo. E qua mi è soffregato perché non vi faccio vedere il pin. Vedete questo è Visor. Io ho Visor Pro. L'ho impostato abbastanza facilmente in realtà. Qua ci sono tutte le istruzioni che servono. Non vado io a farvi vedere, in questo caso qua c'è il video, su come effettivamente si possa utilizzare. E da questo noi andiamo ad utilizzare qualsiasi cosa a livello... a livello social. Ok, questo è il tool che io utilizzo. Andiamo per ordine perché questo era il tool numero uno. Visor.io, super facile da installare. Io ho comprato la versione Pro che costa 2,50€ al mese, oppure 10€ l'anno. Io ho fatto la versione da 10€ l'anno, oppure 40€ Lifetime. Io ho preferito la versione da 10€ l'anno, vediamo. Penso che molto probabilmente la rinoverò tra un anno, ma per ora utilizzo questo tool. Growth Hack numero 2. Growth Hack numero 2, sempre, purtroppo, per Android, in questo caso, è il Growth Hack numero 2. Su Facebook in realtà non funziona, ma su Instagram sì, e ora ve lo farò vedere. In questa maniera qua posso copiare qualsiasi cosa le persone mettano su Instagram. Cosa assolutamente carina se uno vuole copiarsi il pacco di hashtag o semplicemente la caption di qualcuno. Questo si chiama Universal... Vediamo. Ve lo faccio vedere direttamente da qua. Buona notificazione blocker, se non ce l'avete, è una utilità abbastanza carina. Universal. Copy. Questo, Universal Copy, è il tool che io utilizzo per andare a copiare magari gli hashtag di qualcuno, copiare una caption se devo fare un repost, ed è la cosa più semplice effettivamente da utilizzare. Growth Hack numero 3, perché ho un minuto a disposizione. Growth Hack numero 3 riguarda la tastiera che io utilizzo, che si chiama... Che si chiama, chiaramente non me lo ricordo, perché è giusto così. Swift Key, ci ho dovuto ragionare un bel po' per arrivarci. Swift Key, c'è più che ragionare, ci ho dovuto effettivamente trovarla. Su Swift Key esistono delle cose assolutamente carine, perché se non andiamo su Typing, poi vado su Clipboard, vedo più o meno tutto. Se vedete, io per esempio qua ho il testo con la shortcut per rileciare questo. Quindi se io voglio andare in un gruppo DM, apro, vado sul mio gruppo DM, a caso, apro InstaFit Test, bam. Voglio farlo su Telegram, facciamolo su Telegram. Solo un attimo, non carica più, carina sta cosa. Aspettate un attimo che non posso, devo essere sicuro che non è veramente di strano. Ok, qua ci sono, qua è la mia, questo è il mio Telegram. Possiamo andare su gruppi, su gruppi, su gruppi, su gruppi. Quindi, prendiamone uno a caso, Rocket B10, quello che faccio, ecco. Questo mi sta mandando un po' alle ortiche la categorizzazione, ma vedete quanto veloce. Come passo da un'app all'altra, semplicemente avendo un OnePlus, cliccando due volte il tasto menu, quindi questo è il tasto due volte qua, mi torno direttamente sulla precedente. In questa maniera qua, per esempio, i gruppi Telegram posso farne quanti ne voglio in un colpo solo. Questo è il terzo hack. Quindi, visor.io per utilizzare il telefono sul computer, universal copy per poter copiare direttamente dalle caption e degli hashtag che le persone utilizzano su Instagram, e poi abbiamo SwiftKey Keyboard per aggiungere le scorciatoie. In realtà, le scorciatoie potete aggiungerle anche su iOS, andate semplicemente sull'impostazione del vostro iPhone, andate sulla tastiera e troverete la maniera per inserire le scorciatoie. E credo di avervi invogliato un minimo, perché abbiamo fatto vedere dei gruppi DM, abbiamo fatto vedere dei gruppi Telegram. Per chi non fosse a conoscenza di questo tipo di communities e di questo tipo di growth hack, credo sia assolutamente una bomba. Mi raccomando, continuate con l'engagement, ci vediamo nel nostro prossimo video. A seconda di quello che scegliete, io cerco di seguire il vostro feedback, ma ogni tanto la creatività parte, faccio un video che mi va, e quindi nascono questi tre growth hacks in otto minuti e qualcosa. Alla prossima!